Grazie a tutti. Un tema cruciale che è stato affrontato è quello di come oggi anche i fondi pensione possano investire in asset illiquidi e per farlo si siano creati dei progetti ad hoc, tra cui progetto Iride, di cui Pegaso fa parte. Ce ne puoi illustrare meglio i contenuti? Sì, abbiamo cercato una modalità per poter investire in modo efficiente su dei mercati più complessi, più difficili per un fondo pensione contrattuale. Perché più difficili? Perché per la diversificazione della nostra asset allocation le masse che avremmo investito sarebbero state piccole e poco efficaci, ma messe insieme a quelle di altri fondi pensione siamo diventati interessanti, abbiamo condiviso i costi. Abbiamo trovato una modalità sostenibile per investire in delle asset class un po' più complesse, ma che rafforzano la nostra asset allocation e quindi il profilo rischio rendimento dei nostri iscritti. Ha citato la sostenibilità e anche questo è un tema con i criteri ESG che state cavalcando? Assolutamente sì, sia nel progetto Iride che è stato uno dei criteri di selezione del gestore a cui affideremo il mandato, sia in tutto il resto del patrimonio è fondamentale integrare questa dimensione che assume sempre più un valore di materialità che non si può ignorare. Grazie mille ad Andrea Mariani per essere stato con noi, non mi resta che cedere la linea allo studio.